olè monte siamo in diretta ste il nostro veterinario ciao gianluca tocca fare la diretta solo così di selfie perché lo stabilizzatore del mio telefono ha dato il collo e siamo adesso in questo momento a campo imperatore bellissimo veramente uno spettacolo andiamo a vedere dove sono gli altri il cappello bene l'acemeo bellissimo guarda continuano arrivare motori adesso è ora di cibarci e poi dopo torniamo verso cesena qua abbiamo il nostro eroe neo eroe con la moto stesa vittima anche di una scivolata ieri subito in quel di tavuglia che non ti sta simpatico tavuglia porta sfigo come vedi anche te dovrebbe starti sui coglioni anche te adesso e niente qua si sta bene 17 gradi chi manca dei nostri suon dov'è eccolo attenzione l'eroe un altro eroe abbiamo qui mickey mera col cuore con il cuore con il suo 43 cavalli di emozione pura a starci dietro fantastico veramente un grandissimo cuore e poi laggiù c'è suon è veramente imbarazzante niente via direi che ci cibiamo ragazzi perché qua si sta bene ci sono 17 gradi ma dopo dobbiamo tornare a cesena eh mio è lunga la giornata mi sa deviazioni basta deviazioni stop stop deviazioni suon basta mulattiere porco cane col cbr le mulattiere non si fanno ma anche con l'xr 1000 eh direi di si niente dai ragazzi un saluto a tutti noi andiamo a cibarci grazie 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 grazie